Ma oggi noi qui siamo qui a festeggiare, ma festeggiare cosa? A merito di che? Noi ci dobbiamo girare dietro e ringraziare tutti quelli che ci hanno preceduti e se non fosse nato mio nonno, non sarebbe nulla mia nonna che è stata una delle prime donne manager qui non è stata un risalto, una piccola pecca forse una parte dedicata alle donne anche se è poche perché in effetti è un'azienda molto maschilista ma un razio particolare bisogna darlo purtroppo vorrei dire che è una cosa molto retorica a nostro padre che è stato quello che veramente in ultimi dal 90 al 2005 quello che veramente ha fatto sacrifici e ha sopportato sulle spalle della ripresa di San Paolo di un'azienda molto più grande grazie grazie grazie